Il presidente del Consiglio regionale, Giuseppe Di Pangrazio, ha partecipato a Roma alla presentazione dei progetti in favore delle regioni colpite dal sisma, finanziati con la raccolta fondi straordinaria della conferenza dei presidenti delle assemblee legislative. All'incontro hanno partecipato i presidenti dei consigli regionali di Lazio, Marche e Umbria e di sindaci dei comuni interessati. Beneficiari dell'importo stanziato sono, tra gli altri, i comuni abruzzesi di Crognaleto, in provincia di Teramo, e Campotosto, in provincia dell'Aquila. Alla distanza di un anno sono stati reperiti fondi, sono stati vautati progetti presentati, sono stati accolti alcuni di questi progetti e oggi la conferenza stampa perché questi progetti saranno finanziati. Quindi un anno di tempo per fare tutto, è un tempo molto limitato. L'assemblea legislative delle regioni d'Italia, anche grazie ai dirigenti e al personale che è qui in sede a Roma, riesce in un breve tempo a attivare fondi importanti per i comuni che hanno subito il grave sisma del 2016. Per l'Abruzzo i comuni che hanno presentato progetti e poi sono stati accolti, sono il comune di Crognaleto e il comune di Campotosto. Due progetti importanti, su Crognaleto il museo della pastorizia, su Campotosto il recupero dei percorsi dei mulini ad acqua. Intanto diciamo grazie all'intera conferenza perché hanno avuto questa sensibilità di trovare risorse per poi spalmare sui territori che sono stati danneggiati dal sisma. A Crognaleto abbiamo individuato un sito che raccoglie un po' la storia del nostro territorio, il museo della pastorizia incernierato in un incanto pieno roseto dove già ci sono eventi eccezionali e cuciamo questo evento, questa ricostruzione ad altre cose come la Madonna della Tibbia, il percorso, quindi un rilancio delle zone interne, cosa necessaria e importante in questo momento.